Grazie a tutti. Con il sinistro come della Gavi e poi volevo chiederti, naturalmente a Frosinone hai avuto un'annata che ti ha consacrato, anche se sei ancora giovanissimo. Detto ciò, visto che hai giocato a Frosinone, volevo chiederti un giudizio su Canotto, se è bravo solo in fase offensiva o anche bravo in fase difensiva. Buongiorno. Mi piace giocare con i piedi e dialogare anche con la squadra in fase di possesso basso. Comunque poi dopo lì sarà il mister a darci le sue indicazioni, anche per quanto riguarda come andremo in campo. Con il sinistro cerco di migliorare il più possibile giorno dopo giorno, per cercare ogni giorno di migliorare. Frosinone l'anno scorso è stata un'annata positiva e sono contento. Mi ha chiesto di Canotto, giusto? Sì, Gigi posso solo che parlare bene di lui. È un bravo ragazzo che secondo me è un ottimo giocatore. Ha grandi doti in fase offensiva, come penso tutti potete aver visto. Però anche in fase difensiva è intelligente, sa dare una mano quando c'è da ripiegare, è generoso. Quindi posso solo che parlare bene di Canotto. Franco Pellicano, Gazzetta dello Sport. Buongiorno. Sicuramente conoscendo il campionato avete appreso che qui l'anno scorso esisteva la regola dell'alternanza. Cioè, Mikai Turati. Probabilmente di queste cose non avete ancora parlato con il mister. Ma nel gioco del calcio, chi sceglie la maglia numero uno dovrebbe essere il portiere titolare, il 12, il portiere di riserva. Le vostre gerarchie sono già state stabilite, determinate oppure dovete guadagnarle sul campo e sudarle sul campo? Perché la domanda? Esatto. Comincio io. Innanzitutto buongiorno a tutti. Guarda, io sono sempre stato abituato negli anni a guadagnarmi sul campo e poi la possibilità di giocare a il fine settimana. Sarà così anche quest'anno. Nessuno ha mai regalato niente, quindi l'obiettivo è quello di mettere in difficoltà il mister con una sana concorrenza, una sana competizione. E soprattutto l'obiettivo deve essere poi quello di dare una mano alla squadra, che sia in una partita, in 10, in 20, in 30. Quindi io penso che già dal primo giorno a settimana uno debba avere l'ambizione di giocare la domenica, ma come ho detto prima, tramite una sana concorrenza. Si lavora insieme, si lavora bene insieme, si lavora con la squadra insieme e quindi l'obiettivo poi deve essere finalizzato al dare una mano alla squadra, all'allenatore. Certo. No, io sono pienamente d'accordo con quanto detto da Simo. Andiamo in campo tutte e due, ogni allenamento, cercando di dare il massimo, soprattutto per noi e per cercare di aiutare il più possibile la squadra. E poi vedremo le scelte che verranno fatte. Noi siamo entrambe a disposizione, c'è un bel ambiente, abbiamo iniziato a lavorare da pochi insieme, ma già abbiamo visto che insieme c'è un bel ambiente, anche con gli altri ragazzi, anche col mister. E quindi niente, vedremo poi dopo cosa succederà quando dovranno essere effettuate determinate scelte. Però entrambi cerchiamo di dare il massimo e di essere a disposizione, sempre pronti, come ha già detto lui, che sia una partita, 20 o tutto il campionato. Rocco Fabio Musolino, Stretto Web. Buongiorno ragazzi, benvenuti entrambi a Reggio Calabria. La prima domanda è per Colombi. Hai scritto sui social, si cambia la squadra ma la fame è la stessa. Questo significa che oltre all'obiettivo di squadra di cui hai parlato prima, c'è anche forse quello personale. L'anno scorso al Parma hai avuto l'occasione di giocarti il posto insieme a Gianluigi Buffon. Quindi cosa porti con te di quell'annata passata. Mentre a Ravaia, chiedo sicuramente che l'anno scorso al Prosinone hai avuto modo di giocare tante partite titolare. Quanto è importante per te la presenza a Reggio Calabria di Mister Rindzaghi? Sicuramente verrà incontrato a Bologna. Parto io? Allora, di Buffon porto una bellissima esperienza, molto bella perché ho avuto modo di conoscere Buffon in campo, fuori dal campo e non solamente la domenica in televisione. Ho cercato di rubare il più possibile perché da una persona, da un professionista così bisogna rubare. E' dispiaciuto solamente il fatto che poi quando lui ha avuto dei problemi fisici, in contemporanea l'ho avuto anche io e quindi in realtà poi non sono riuscito a mettere minuti nelle gambe. Però al di là di quello è stata un'esperienza formativa, positiva, che rifarei perché credo che non è da tutti poter condividere lo spogliatoio con un personaggio come Buffon. che per portieri, almeno parlo della mia generazione, è l'idolo ed è stato l'idolo. Cercherò di mettere a disposizione del gruppo, quindi dei ragazzi in generale, ma sia dentro che fuori dal campo, ma appunto a tutti quanti, un po' di quello che ho preso da lui. Perché, ripeto, un conto è vederlo solamente in tv l'ora, l'ora e mezza della partita, in Champions League, piuttosto che in campionato. Un conto è viverlo nel quotidiano. Per quanto riguarda il mister, è la prima volta in realtà che lo trovo, perché quando era arrivato a Bologna io ero in prestito, quindi non avevo avuto modo di conoscerlo prima. Invece sì, l'anno scorso ho avuto la possibilità di giocare con continuità, poi dopo, verso fine campionato, sono stato giù qualche partita per via di un piccolo infortunio. Però sì, secondo me, la cosa più importante per un portiere è riuscire a avere continuità, perché mettere minuti su minuti, partite dopo partite, poi dopo è normale che uno trova confidenza, trova fiducia. E quindi sì, secondo me è un aspetto molto importante comunque la continuità. Giorgio Rieto di Italia News Intanto benvenuti ragazzi, partirei prima con Simone, tu hai tantissime presenze in Serie B, però appunto la tua ultima esperienza ci insegna che abbiamo visto il parma stellare, ma nella Serie B non la vinci solo con i nomi. E poi Federico, quella parata strepitosa sotto la sud dell'anno scorso, su Cortinovis, che effetto ti fa adesso giocare proprio sotto quella sud? Addio, addio. Sì, l'anno scorso quella partita la ricordo particolarmente bene, anche perché venivo da una settimana particolare, dove era venuto a mancare mio nonno, quindi diciamo il pre-partita è stato pieno di emozioni forti. Quindi poi dopo quella parata è stata una liberazione di magari tutto quello che avevo dentro, quindi è stata una partita intensa a livello emotivo e la ricordo proprio perché l'ho vissuta con forti emozioni. E poi dopo magari è stato un segno del destino venire a giocare proprio qui, dove è accaduto appunto di fare quella parata l'anno scorso. Allora, per quanto riguarda l'anno scorso, è stata un'annata difficile perché siamo partiti sì con una squadra che sulla carta doveva ammazzare il campionato, ma la Serie B è questa. Io l'ho fatta per tanti anni, ho fatto qualche anno anche la Serie A e c'è differenza, c'è differenza perché in B ti devi calare nella realtà, devi avere tanti operai in campo, quindi tanta gente che conosce la categoria, che sa cosa vuol dire sacrificarsi, sa cosa vuol dire affrontare squadre anche sulla carta più deboli, ma che non ti regala niente. Tant'è che è un campionato che puoi vincere contro la prima, vincere contro l'ultima, perdere contro la prima e perdere contro l'ultima. Quindi è importante creare un gruppo forte già dai primi allenamenti quest'anno ed è una cosa che sto percependo perché già da quando sono arrivato settimana scorso ho avuto la sensazione di essere dentro un gruppo forte, un gruppo che ha la voglia di migliorarsi, la voglia di sacrificarsi e penso che sia una delle caratteristiche fondamentali per un'annata buona. È normale che poi da lì uno deve costruire, c'è un allenatore nuovo, ci sono tanti ragazzi nuovi che sono arrivati anche negli ultimi giorni e quindi pian piano questo gruppo diventerà sempre più forte finché saremo poi pronti ai primi appuntamenti. Colleghi ci sono altre domande? Rino Tebbala, Quotigliano del Sù. La responsabilità di essere un portiere anche della Reggina per entrambi? Per me è un orgoglio perché la Reggina è una società storica, una società molto importante e sinceramente per quanto riguarda la mia esperienza delle settimane passate quando ho avuto la possibilità di venire qua a giocare, di tornare al sud a giocare dopo un po' di anni io ero stato a Castellammare di Stabia, alla Juve Stabia anni fa e sono stato anche a Palermo e mi sono trovato sempre molto bene in entrambi i posti e quindi avevo anche voglia di tornare, di riassaporare una piazza molto calda e passionale come quella di Reggio. Quindi sono molto contento di essere qua e porto tanto entusiasmo perché ho proprio voglia di mettermi a disposizione e sicuramente sono ingredienti che porterò anche in campo e nello spogliatoio. Anche per me vale la stessa cosa, già l'anno scorso che era la prima volta che venivo a giocare qui ho avuto modo subito di sentire il calore che la piazza portava già allo stadio e quindi anch'io sono venuto giù con tanta voglia di mettermi a disposizione, tanta voglia di fare e sapendo che in primis venire qui è un orgoglio, giocare per questa maglia, per questa piazza e quindi sono anch'io molto contento di essere qui. Natalino Licordari, Gazzetta del Sud A entrambi vi faccio una domanda Come si è sviluppata la trattativa? Quando vi hanno informato il procuratore che la regina era interessata a entrambi? Allora è stato tutto molto veloce ero partito in ritiro su con il Bologna e poi gli ultimi giorni sono stato contattato appunto prima dal mio procuratore che c'era un interessamento e poi dopo è bastata una chiamata con il direttore che poi dopo la trattativa è andata in porto e anch'io ero contento di venire giù e si è concluso in pochi giorni. Per me è una cosa simile nel senso che avevo finito il ritiro con il Parma due settimane fa giocando l'amichevole contro la Sampdoria un sabato pomeriggio sapevo che la società parma aveva fatto altro tipo di scelte e quindi il procuratore poi mi ha chiamato quella sera stessa parlandomi dell'interessamento della regina e io gli ho dato via libera per portare avanti la cosa e di lì a due giorni mi ha confermato il tutto e poi sono sceso. Se non ci sono altre domande chiudiamo con Giorgia Reato Giovanni Cimini e poi Giorgia Reato in chiusura Qual è l'obiettivo della squadra in questo campionato? Anche in base alla squadra che sta appunto nascendo con i nuovi arrivi? Allora l'obiettivo deve essere quello innanzitutto di far bene perché siamo di fronte a un campionato difficile come tutti quanti dicono forse uno dei più difficili degli ultimi anni ci sono tante squadre forti e blasonate e quindi di conseguenza l'importante è di mettere in cascina il prima possibile fare più punti il prima possibile in modo che poi una volta raggiunta la salvezza ci si diverte però mi riallaccio alla domanda di prima sull'annata del Parma dell'anno scorso dove avevamo una squadra forte siamo arrivati dodicesimi e a un certo punto dell'anno, della stagione ci siamo guardati addirittura alle spalle quindi deve essere importante tenere ben piantati i piedi per terra la sua età ci sta mettendo a disposizione veramente tutto per poter fare una bella stagione e adesso sta a noi con il lavoro Giorgia, prego Ragazzi, qualche parola sullo staff su Mr. Inzaghi e soprattutto anche su Massimo Taibi che insomma è stato un grande portiere anche lui se vi ho già dato qualche consiglio comunque ci avete già parlato Allora, io il direttore ancora personalmente non ho avuto modo di conoscerlo l'ho sentito solo al telefono appunto pochi minuti perché quando mi ha contattato per venire giù quindi ancora appunto non ho avuto modo di conoscerlo e spero di farlo presto per appunto poterci parlare Io con Taibio ho lavorato dieci anni fa a Modena l'avevo già conosciuto all'epoca se non ricordo male ancora forse non faceva il direttore sportivo a Pino Regime sì perché c'era Cannella però insomma era nello staff e quindi l'avevo conosciuto per tutta quell'annata sono contento di trovarlo qua personalmente ancora non l'ho rivisto invece con Inzaghi e col suo staff devo dire che mi sto trovando molto bene è un allenatore pratico un allenatore che cura ogni dettaglio lui come lo suo staff e di conseguenza stiamo lavorando bene con Maurizio Guido pure era un preparatore che ovviamente per sentito dire lo conoscevo ma non personalmente però mi sto trovando bene devo dire che c'è un bell'ambiente in cui si può lavorare e quando si lavora bene insomma si parte già col piede giusto Colleghi la conferenza termina qui grazie per la vostra partecipazione